Direi che il tema idrico è un tema non solo pressante ma fondamentale per la vita e la competitività di un territorio. Detto questo per il momento siamo ancora nella fase buona, sicuramente l'estate ci preoccupa e la competenza, la professionalità comunque di tutti i tecnici e operativi di Marche Multiservizi hanno sempre dimostrato di sapersela cavare bene e speriamo che un po' di pioggia arrivi non tanto perché possa rimpinguare le falde ma sicuramente aiuta ai minori consumi e su questo vorrei anche dire che noi stiamo lavorando molto sulla riduzione delle perdite, sicuramente anche i cittadini e le imprese possono contribuire ad un utilizzo ottimale di questa risorsa che comunque è sempre più limitata e finita, sicuramente però dobbiamo fare anche delle scelte strategiche importanti. Diciamo che la priorità sicuramente è la pulizia degli invasi lungo il metauro che ci consenterebbe di avere una maggiore risorsa disponibile da potabilizzare, sono tutte leve che dobbiamo utilizzare e in questo campo ovviamente speriamo che anche i fondi del PNRR ci aiutino per avere, stiamo già partecipando a dei bandi, al primo bando che è uscito, speriamo di poter recuperare delle risorse che ci aiutino a bonificare le reti che sono comunque già obsolete e fare altri interventi in modo tale che questo territorio sia sempre più in sicurezza e il fatto dell'approvvigionamento e di distribuzione idrica non sia legato solo all'andamento delle piogge ma sia un fatto strutturale e definitivo in termini positivi. Quindi il nostro impegno è totale perché ci rendiamo conto e sappiamo che senza acqua non c'è vita. Uscendo dal tema acqua, che cosa il mese di aprile, il mese di maggio porta nell'agenda di Marche Multiservizi come scaletta di priorità? Sicuramente siamo in un territorio che ha una vocazione turistica, quindi dobbiamo anche noi contribuire a far sì che il turismo possa avere tutti i migliori servizi possibili per essere ancora più accattivanti e avere un appeal turistico importante, quindi da questo punto di vista abbiamo già, come già anche scritto, abbiamo anticipato tutta una serie di attività sulla spiagge con a fianco dei bagnini per rendere ancora più rapido il nostro intervento e rendere le spiagge già, anche durante le feste di Pasqua, già attrattive. Quindi uno dei temi sui quali facciamo veramente fatica a bucare lo schermo, come si direbbe in gergo, è il tema dell'abbandono dei rifiuti. Non riusciamo a comprendere il fatto che abbiamo servizi a chiamata, abbiamo 17 centri di raccolta sparsi sul territorio, nella città di Pesaro abbiamo credo uno dei centri di raccolta più belli non solo della regione ma forse d'Italia. Nonostante questo l'abbandono di ingombranti lungo la strada, nelle piazze vicino alle isole ecologiche e addirittura sui greppi è una costante. Non riusciamo a capirlo perché tra l'altro la raccolta degli ingombranti è anche entro certi limite gratuita, quindi non si capisce il perché. E questo purtroppo comporta costi aggiuntivi che poi alla fine ricadono su tutta la collettività ma anche un brutto segnale, un decoro sbagliato. Direi che invece di avere una città che è accogliente e pulita a volte abbiamo delle manifestazioni di inciviltà che rovinano tutto quello che viene fatto durante la giornata. Speriamo che a forza di battere anche questo aspetto negativo venga in un certo qual modo quantomeno mitigato se non annullato del tutto. Direi che colgo l'occasione per fare formulare gli auguri di Buona Pasqua a tutti i vostri telespettatori, a loro famiglie e ovviamente anche a TV Rossini.